Arrivo al Bancomat. Prelievo non disponibile. Vabbè, tanto devo fare una ricarica. Inserisci la carta, batti il PIN, scontrino non disponibile. Si vuole procedere? Vabbè, dai, ricarica telefonica. Servizio momentaneamente non disponibile. Ritirare la carta! Assistenza informatica, sono Grizzly. Posso aiutare? Buon pomeriggio, Carlo Antrocchio. Che cosa...? Buon pomeriggio. Sì, comunque... tralasciamo che la fibra ottica l'ho fatta all'annosco... No, guarda, è il campionato di calcio, lasciamo stare, è più di vent'anni che non guardo una partita di calcio, come sport mi nausea. E a ogni modo non mi inter... Allora, non ti dico che cosa penso della tv via internet. Anzi, non voglio neanche dirti quello che penso per tutte le volte che mi contattate, mi telefonate, mi proponete servizi dei quali non mi interessa assolutamente nulla. Ecco, esatto. Tuttavia, se proprio ci tieni, potrei anche decidere di aprirmi ed esprimere tutte le mie opinioni. Vuoi provare? Ah, cogli l'ironia, eh? Bene. Eh, caro Alexander, meno male che coglie l'ironia! Perché lui è uno che coglie! Ma uno che coglie veramente, eh? Ma proprio un grandissimo...